Più di 40 civili sarebbero rimasti uccisi nei nuovi raid dell'aviazione russa sulla zona del Ghouta orientale in Siria, bastione delle forze ribelli e da febbraio teatro di un'offensiva dell'esercito di Damasco. La denuncia arriva dall'Osservatorio per i diritti umani in Siria, una ONG con sede a Londra, secondo la quale gli attacchi sulle città di Qarafbatna sono costati la vita a 31 persone e quelli sul Saqba ad altre 11. L'area è controllata per il 70% dalle forze governative, mentre gli insorti sono concentrati in tre sacche di resistenza, isolate l'una dall'altra.